Andrea De Masi, che partita hai vissuto o che partita hai visto? Allora, diciamo che personalmente è una partita difficile, dato l'infortunio dopo pochi minuti e anche vista una partita difficile, forse loro, Calvisano era una squadra più preparata atleticamente, di sicuro e fisicamente e cos'altro? Probabilmente dalla sconfitta scorsa sono arrivati più convinti di noi. Di fare meno? Esatto, probabilmente sì. Per voi è stato un anno travagliato, comunque a testa alta? Sì, noi abbiamo sempre cercato di dare il massimo in ogni partita, anche se l'anno è stato difficile, non si può negare. Però, diciamo, magari la fortuna non è sempre stata da nostra parte, ma noi abbiamo sempre cercato di dare il massimo e fare il meglio possibile. Parliamo più di te, così parliamo ai nostri amici del Rugby Channel, penso che ci conosciamo tanti, però alcuni no. Da quanto tempo gioco il Rugby, età, club formatore? Io gioco al Rugby da quando avevo nove anni, ho sempre giocato alla Benettona, a Treviso, fino all'Under 18 per poi spostarmi in Accademia Nazionale a Parma e poi quest'anno a Mogliano. A chi salutiamo in questo momento? Saluto sicuramente i miei amici, i miei genitori e tutti quanti che stanno guardando.